La cosiddetta L45, la linea cioè da 45.000 tonnellate di rifiuti annue del termo valorizzatore di San Zeno, non chiuderà. La decisione del mantenimento in esercizio anche di questa linea è della regione toscana, comunica AISA Impianti. In termini economici, scrive l'azienda, questo significa un risparmio netto di 2,2 milioni di euro perché si evita la demolizione di un reparto sempre aggiornato e premiante, ma anche un risparmio di oltre un milione all'anno per la collettività, derivanti dal fatto che durante i fermi impianti per manutenzione non si andrà più in discarica con gli scarti e non si acquisterà più energia elettrica dalla rete. La linea di recupero energetico così organizzata, prosegue AISA, potrà sopperire in caso di manutenzione, guasto o emergenza alla L75, cioè la nuova linea in costruzione, quella da 75 mila tonnellate all'anno. Le migliori risposte che l'azienda può dare al proprio territorio sono la capacità di autofinanziarsi, incrementare la centrale e mantenere fuori dall'emergenza rifiuti la provincia di Arezzo, afferma il presidente di AISA Impianti, Giacomo Cherici, nel commentare la notizia.